Oggi vi presento Keys Fun, un negozio online che ti consente di acquistare legalmente licenze software a prezzi più convenienti. Ed infatti oggi in sconto ci sono diverse licenze per ovviamente il pacchetto Office, Windows e Mac per la versione 2021 che trovate qui sotto in descrizione e nel primo commento con uno sconto dedicato proprio grazie a me. Quindi inserite il codice Zane con l'annesso sconto e avrete lo sconto abbinato. Per la stragrande maggioranza delle persone il pacchetto Office è la cosa principale da utilizzare quando si inizia un lavoro vero e proprio. Ed in queste versioni, che ovviamente vi offro in sconto tramite la collaborazione con Keys Fun, troverete di tutto e di più. Anche perché questa versione ti consente di creare e modificare documenti in Word, analizzare dati in Excel e creare presentazioni perfette per i tuoi PowerPoint. Ma potrai anche assumere il controllo della tua casella di posta con Outlook, collaborare tramite Teams e salvare le tue idee in OneNote. Basta effettuare l'ordine, installare la suite ed attivare l'app utilizzando il codice di licenza fornito. Ovviamente non prima di aver utilizzato il nostro sconto, eh? Insomma, vai qui sotto in descrizione e nel primo commento e scopri tutti gli sconti per le licenze Office di Keys Fun, in collaborazione con Mirko Zain.